Sono passate 5 settimane dalla prima forte scossa di terremoto a largo della costa pesarese anconetana, che ha innescato uno sciame sismico di fatto mai interrotto. Di settimane ne sono passate un paio di meno quando il 21 novembre la Regione Marca aveva inviato al governo Meloni la richiesta dello stato di emergenza, dopo una prima stima dei danni effettuata dai comuni e dalle province colpite dal sisma. Danni che toccano i 40 milioni di euro ad Ancona, 50 milioni nella città di Pesaro, 30 milioni quelli stimati a Fano e 4 nei comuni limitrofi, mentre altri 7 sono quelli individuati dalla provincia di Pesaro Urbino per gli istituti superiori. Conto totale dei danni 130 milioni di euro, causando l'inagibilità di una cinquantina di abitazioni con circa 150 sfollati e provocando il danneggiamento di circa 1200 edifici. Lo stato di emergenza è stato inoltrato dalla Regione, alla quale però il governo non ha ancora dato una risposta chiara. In Consiglio regionale è stata approvata una mozione che ritengo molto importante, con la quale sollecitiamo il governo regionale, quindi la Regione, a richiedere al governo centrale una risposta rispetto alla richiesta che la Regione stessa ha fatto il 21 di novembre per il riconoscimento dello stato di emergenza legato all'evento sismico del 9 di novembre. Questo penso che sia importante perché da una parte ricordo che, come anche sollecitato da diverse associazioni di categoria, il riconoscimento dello stato di emergenza consentirebbe a quei territori che rientrano nello stato di emergenza di poter beneficiare del superbonus 110 fino a dicembre 2025. dall'altra la dichiarazione è comunque importante perché consente ai cittadini ma anche ai comuni che hanno ricevuto danni, perché ricordo che ci sono molte famiglie che hanno avuto i danni diretti legati all'evento sismico di novembre, di poter avere dei fondi per comunque sistemare, riqualificare, migliorare ma anche per ripristinare i danni subiti. Senza richiesta di stato di emergenza o meglio senza riconoscimento questi cittadini dovranno pagare di tasca proprio gli interventi di recupero per poter entrare nelle proprie case. Non per ultimo chiedo comunque alla Regione di sollecitare il Governo affinché il bonus comunque rimanda per tutti quei territori e quelle regioni, comprese le Marche, al di là di quelli che sono colpiti allo stato di emergenza per l'evento sismico, di avere comunque di poter beneficiare di un bonus per la riqualificazione sismica degli edifici.